Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Sto inquadrando il maestro Bonafè che ci farà sentire questa occasione di coppia di clarinetti Buffet RC che hanno circa una decina di anni ma che sono veramente in perfette condizioni sia dal punto di vista meccanico che della tamponatura e registrazione. Lascio la parola al suono del maestro Bonafè che vi farà sentire e vi darà le impressioni. Buongiorno Proviamo anche clarinetti in là, questo era clarinetti si bemolle. Sono due strumenti molto equilibrati. Si può passare tranquillamente da l'uno all'altro senza grandissime differenze. Hanno un bel suono scuro anche perché sono a 4,40. Sono tagliati a 4,40. Mi sembra che abbiano degli ottimi tamponi Gore-Tex nuovi. Sono molto morbidi anche sotto le dita. Sono proprio due ottimi strumenti. Benissimo, siamo molto contenti per un professionista che suona l'orchestra come per uno studente che vuole qualcosa di più. Benissimo, allora ringraziamo il maestro Bonafè. Buongiorno